Anche quegli studi, che erano chiamati nobili, sfociavano in una educazione al litigio, cioè tendevano a rendermi eccellente in quell'arte nella quale si è tanto più elogiati quanto più si imbroglia. La cecità degli uomini è così grande che si gloriano persino della propria cecità. Ormai ero il primo alla scuola di retorica e me ne compiacevo con alterigia, mi gonfiavo di vento. Sebbene fossi molto più tranquillo, signore, tu lo sai, e rimanessi del tutto estraneo ai disordini provocati dai perturbatori dell'ordine, epiteto sinistro e diabolico, cheppure equivale a un'insegna di buona educazione fra quelli con cui vivevo. Nella mia impudenza serbavo dunque un certo pudore, se non ero come loro. Mi incontravo con loro. Mi piaceva talvolta la loro compagnia, pur ripugnandomi sempre le loro imprese, cioè quei disordini in cui deridevano i timidi e gli inesperti, provocandoli con beffe e beandosi così in questi maligni divertimenti. Era proprio un comportamento da demoni, perciò non potevano ricevere appellativo più giustificato che quello di sovversivi, perturbati come erano essi stessi da quegli spiriti beffardi, che li deridevano di nascosto e li seducevano proprio nell'atto di godere delle derisioni e delle beffe altrui.